Noi sono più preoccupati perché l'arco lo tieni tu in giro. Spieghiamo, non è una freccia ovviamente, questa è la vibrazione, perché loro solo appuntano, glielo facevano questa passata. Dieci metri circa è la distanza e vediamo. Grazie. Grazie. E noi attaccati una sola! Bravo! 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 Prego! Parliamo! 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 Se io volessi toman… Tu dici che ce la faccio a prendere un sciamosina dallo studio, eh? Anche una mela. La mela? La mela è la mela. Io è bravo, finisco il programma, la mela.